Giornata 27 in eccellenza, buon pomeriggio, immagini che vi arrivano in diretta dal tenente Vaudano di Capaccio. Diciamo siamo arrivati alle partite clou per la Galpazio per conquistare questa salvezza, la mission è vicinissima e i due prossimi match, quello di oggi con il Salerno Unbaronissi e poi quello successivo ancora in casa sabato con l'apice prima del turno infrasettimanale segneranno praticamente il momento clou del campionato che dovrebbe portare a una salvezza quasi raggiunta per la squadra capaccese. Adesso ci fermiamo davvero per un momento, davvero un ricordo importante. Alla fine c'è D'Avella che ha terminato la stagione, insomma qualche assenza di troppo la Galpazio ce l'ha. Sì, tante assenze, diciamo attenzione adesso. Attenzione, la palla è buona per il numero 9 De Filippo e K è sempre sul pezzo su questo portiere. Con il numero 3, palla centrale, Camarota fa il velo, palla De Filippo che si potrebbe girare, lo fa fuori aria, il tocco, il tiro esterno del numero 4, ovviamente Ciccio Santo Nicola che prova la botta a palla che termina lontano dai pali. E Mastro Giacomo per la prima volta si spinge avanti, gioca bene, ancora buon inserimento di Mastro Giacomo, poi Volpe, palla centrale, colpo di testa, tentato dal capitano. Questa volta Margiotta fa un po' di fatica perché siano veramente due spirungoni i difensori del Baronissi, quindi magari farlo più manovrare in mezzo al campo. Ecco vedete che già così qualche cosa in più si crea. Attenzione, palla in aria, per il tiro sull'esterno della rete di Borsa. Ancora una palla per Camarota che potrebbe giostrarla, va un cross, K è bravo però la sta lì, mamma mia, c'è il salvataggio miracoloso di Maiese, è chiuso da due uomini Monzo, vuole strafare, poi alla fine da Calpazio recupera la palla con Volpe che va alla botta, Orlandi rispinge con i pugni, attenzione a questo slalom speciale, rigore, l'ho detto subito, rigore, questo è l'epilogo di quello che avevamo detto, non ci ha messo la carica giù, speciale il primo tempo, poi ci ha provato il secondo, però i tiri in porta latitano e adesso K ci si mette nelle mani di K, perché deve salvare ancora un'altra la Calpazio. Ci va Letizia? Letizia, sì, numero 16, va al tiro, Letizia, va al tiro, gollo, mannaggia, mannaggia, il Baronissi è in vantaggio e non gollo, l'importanza per gli ospiti, e infatti è giusto che Letizia vada a risultare, la Calpazio fa la mia colpa, viene armonito un altro giocatore che è Monzo. Questa è una sciocchezza difensiva. Questo è il pubblico per la distanza che dice che non è rispettata, comunque la Calpazio se lo deve tirare, tira margiotta. Ma il capitano troppo alto. È un colpo di testa, una spizionata. Senza palla non si muovono di gioco. Mamma mia, ciao, salutiamo Monzo. Si becca il 9 la Calpazio. Calpazio ha perso la testa completamente e perde due uomini fondamentali. Per gli ospiti intanto, vediamo che succede, viene richiamato l'arbitro dal guardia linea. Il guardia linea ha segnalato qualcosa all'arbitro, vediamo. Vada, chiacchio credo, lo espelle, non ci posso credere. È espulso anche, finisce in 8 la Calpazio. No, ma non ci posso credere. Adesso a freddo viene espulso, non si capisce perché, chiacchio. Finisce la partita, esulta il baronissimo. Paggia una valente da cancellare questa partita della Calpazio.